La Notte dell'Amore, il 7 di agosto, a Torre Pedrera, torna sulla spiaggia questo importante appuntamento, questo appuntamento che si rinnova grazie anche al Comitato Turistico che lo organizza attraverso un concerto particolare. Quest'anno cosa proponete? Quest'anno proponiamo un concerto per pianoforte quattro mani e quartetto vocale, che è un unicum, direi, nella Romagna, ma forse anche in Italia, perché suoneremo i Liebeslieder-Walz di Brahms e i Neue Liebeslieder-Walzer, che sono queste canzoni d'amore sulla forma di waltzer, composte da Brahms su testi poetici dell'Ottocento che sono sul tema dell'amore, quindi queste poesie molto struggenti a tratti dolci e altri tratti invece più malinconiche, altri tratti vediamo più irruenza, la passione proprio dell'Ottocento, quindi direi che è il tema ideale per esaltare la Notte dell'Amore e con il concerto si vuole proprio organizzare un evento, come dire, ricercato, un po' più di nicchia, un pochino più nobile, raffinato e quindi il Comitato Turistico offre questa perla all'interno della settimana di Ferragosto, quindi dove ci sono più persone, che è la Notte dell'Amore, tre giornate di festa, tutte a tema dell'amore. L'ultima serata finale è il concerto. La musica aiuta in un periodo soprattutto come quello che stiamo attraversando, dominato anche da attentati, da varie forme di delinquenza, la musica aiuta a superare questo tipo di situazioni? Assolutamente sì, è un messaggio forte quello che noi musicisti possiamo dare alla società attraverso la musica, un messaggio di bellezza, come dire, che portiamo alla bellezza, non solo in generale, la bellezza della musica, la bellezza della poesia e dell'arte e questa bellezza, secondo me, è fondamentale da far arrivare per contrastare tutte queste brutte cose, l'orrore che vediamo in giro con il terrorismo e attraverso l'educazione alla bellezza, allora davvero forse si può avere qualcosa di nuovo, qualcosa di meglio.